Cherche se è come ci sta pescocando E che succede? Dai bella, dai! Anni c loc soon Sembra a me. Vabbè. Giovane, vedi bene, dovrebbero essere le candele. Giovane, guarda che devono essere le candele. Ho detto le candele. Scusate il disturbo. È successo qualcosa? Sì, la macchina si è fermata nella stradina qui, 4-5 km di qua, niente. Non ho il telefono, se possiamo chiamare qualcuno. Vabbè, non è un problema, con il trattore la trainiamo, va bene? Va benissimo. Sei da solo o con la famiglia? No, da solo sto. Va bene, stai tranquillo che ti vedo un pochino agitato. Sto pensando a cose assurde che rimangono proprio... Cioè? Si è fermata la macchina e ho visto nel motore se riuscivo a capire qualcosa, insomma, e niente, a un certo punto ho sentito una voce. Una voce? Sì, la voce diceva, giovane, dovessero essere le candele. E chi stava? Non c'era nessuno. E questa è la cosa che mi sono rimasto così. Cioè, non è che non c'era nessuno, voglio dire. Stava però... Stava una mucca a distanza, diciamo, vicino al muretto. Cioè, io stavo lì concentrato, a un certo punto, giovane, ma ho guardato dappertutto, veramente. Una mucca. Stava solo mucca. Una mucca bianca a chiazze nere. Sì. E lasciala a perdere a quella, che quella non capisce niente di motore. Sì. Sei fissato con le candele. Sì. 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 Sì.